La lega dei capelli rossi. Ero passato dal mio amico, il signor Sherlock Holmes, un giorno d'autunno dello scorso anno, e lo trovai intento in una profonda conversazione con un uomo anziano molto robusto, dal viso florido e i capelli rossi. Scusandomi per l'intrusione, stavo per allontanarmi quando Holmes mi trascinò nella stanza e chiuse la porta dietro di me. «Non avreste potuto scegliere un orario migliore, mio caro Watson», disse cordialmente. «Temevo che foste impegnato. Lo sono, infatti. Moltissimo. Allora posso attendere nella stanza accanto. Niente affatto. Vede, signor Wilson, questo signore è stato mio socio e collaboratore validissimo nella soluzione di molti tra i miei casi più fortunati, e sono sicuro che ci sarà di grande aiuto anche nella soluzione del suo». Il grosso personaggio si alzò a metà della sedia, dove era seduto, e mi fece una specie di inchino, lanciandomi un rapido sguardo interrogativo dei suoi occhietti circondati di ciccia. «Si metta sul divano», mi disse Holmes lasciandosi cadere in poltrona e congiungendo insieme la punta delle dita, come era solito fare nei suoi momenti di maggiore concentrazione. «So, caro Watson, che lei condivide con me la passione di tutto ciò che è bizzarro e al di fuori della convenzionalità e della monotonia dell'esistenza quotidiana, e lo ha dimostrato con l'entusiasmo che l'ha spinta a registrare, e mi perdoni se glielo dico, ad abbellire anche un tantino parecchie delle mie modeste imprese. Ma in me le sue avventure hanno sempre suscitato il massimo interesse», protestai. «Si ricorderà allora che proprio l'altro giorno, poco prima che ci mettessimo a esaminare il caso in verità semplicissimo, sottopostoci dalla signorina Mary Sutherland, io le facevo notare che per ottenere effetti inattesi e combinazioni straordinarie, occorre sempre risalire alla vita stessa, che in fatto di incredibilità sfida anche i più fantasiosi voli dell'immaginazione. Era però una tesi sulla quale io mi ero permesso di avanzare dei dubbi. Infatti, caro dottore, ma lei dovrà, presto o tardi, condividere la mia opinione, altrimenti io le sottoporrò tante prove a dimostrazione della mia teoria che alla fine la sua ragione dovrà cedere di fronte all'evidenza dei fatti. Ma veniamo al dunque. Il signor Jabez Wilson, qui presente, ha avuto la bontà di venire a trovarmi stamattina e di iniziare un racconto che promette di essere tra i più singolari che mi sia mai capitato di ascoltare da qualche tempo in qua. Lei mi avrà udito spesso affermare che gli avvenimenti più sensazionali, più impensabili, sono molte volte legati non ai grandi delitti, ma a quelli minori, tanto da far persino dubitare a volte che esista in essi un nesso criminoso. Per il momento mi è impossibile dire se il caso attuale possa far supporre un intendimento criminoso o no. Comunque i fatti che il signor Wilson mi ha esposto sono tra i più singolari che io abbia mai udito. Forse, signor Wilson, lei dovrebbe usarci la cortesia di ricominciare il suo racconto da capo. E questo non soltanto perché il mio amico qui presente non ne ha ancora ascoltato l'inizio, ma anche perché si tratta di una situazione talmente nuova che vorrei ascoltarne ancora minutamente tutti i particolari. Di solito, dopo aver afferrato solo i primi accenni di un fatto, riesco quasi sempre a trarne deduzioni esatte, aiutandomi anche col ricordo di casi analoghi. Ma nel caso attuale sono francamente costretto ad ammettere che si tratta di una vicenda più unica che rara. Il massiccio cliente gonfiò il torace con un'espressione malcelata di orgoglio e trasse dalla tasca interna del cappotto un pezzo di giornale tutto sudicio e sgualcito. Mentre ne scorreva la colonna pubblicitaria, il capo sporto in avanti, il foglio spiegato sulle ginocchia, mi presi la briga di soppesarlo attentamente, cercando, sull'esempio del mio amico e maestro, di interpretare gli indizi della sua personalità che potevano essermi suggeriti dal suo vestito o dal suo aspetto esteriore. Ma il mio esame non mi rivelò un granché. Il nostro ospite aveva tutta l'aria di essere un qualunque buon commerciante inglese obeso, pomposo e tardo. Indossava un paio di pantaloni grigi a scacchi, una marsina nera, non troppo pulita, che teneva sbottonata, un panciotto malandato attraversato da una pesante catena in similoro da cui pendeva come ornamento una piastrina quadrata di metallo. Su una sedia accanto a sé aveva posato un mantello marrone stinto, guarnito di un misero colletto di velluto, e un cappello a cilindro che aveva conosciuto tempi migliori. Per quanto lo guardassi e lo riguardassi non gli trovavo proprio nulla di notevole, a eccezione di quella fiammeggiante chioma rossa e di un'espressione di estremo scontento e malumore che gli si leggeva in ogni piega della faccia. Sherlock Holmes, col suo sguardo pronto, si accorse immediatamente dei miei maneggi e alle mie occhiate interrogative rispose con un sorriso e un cenno negativo del capo. A parte il fatto evidente che il nostro ospite per un certo periodo di tempo ha esercitato un lavoro manuale, che annusa tabacco, che è frammassone, che è stato in Cina e che recentemente ha scritto molto, non posso dedurre altro. Il signor Jabez Wilson sobbalzò sulla sedia, con l'indice puntato sul giornale, ma con gli occhi fissi al mio compagno. «Corpo d'un cane, signor Holmes!» esclamò. «Come ha fatto a indovinare tutti questi particolari? Come fa a sapere, per esempio, che ho esercitato un lavoro manuale, il che è vero come il Vangelo? Infatti ho proprio cominciato a lavorare come carpentiere navale!» «Lo capisco dalle sue mani, mio caro signore. La sua mano destra è parecchio più grossa della sinistra, poiché avendo lei evidentemente lavorato di più con quella, i muscoli sono maggiormente sviluppati.» «Già, ma come spiega il tabacco e la massoneria?» «Non offenderò la sua intelligenza spiegandole come ho arguito questo, tanto più che, credo contro le regole della sua confraternita, che sono piuttosto severe, lei porta una spilla da cravatta rappresentante una squadra e un compasso.» «Ah, già, è vero, me ne ero dimenticato. Ma il fatto dello scrivere? È evidentissimo dal polsino destro, così lucido per una quindicina di centimetri, mentre il suo gomito destro è liscio e liso a forza di stare appoggiato alla scrivania.» «Va bene, ma la Cina?» «Quel pesce che lei ha tatuato sopra il polso destro non può essere stato fatto che in Cina. Mi sono dedicato a un piccolo studio sui tatuaggi, e anzi ho contribuito personalmente alla letteratura sull'argomento. L'arte di tingere le squame dei pesci di quel delicato colore rosa è tipicamente cinese. Quando poi le vedo pensolare dalla catena dell'orologio una moneta cinese, la cosa diventa ancora più ovvia. Il signor Jabez Wilson scoppiò in una risata fragorosa.» «Beh, questa poi!» «Al principio pensavo che avesse tirato a indovinare con molta fortuna, ma vedo che invece ha semplicemente ragionato a fil di logica.» «Caro Watson», disse Holmes rivolgendosi a me, «comincio a pensare di essere in errore, spiegando ogni cosa.» «Omne ignotum pro magnifico, lo sa, vero? E se io continuo a essere così candido, quella poca fama che mi sono creato va a farsi benedire.» «Non riesce a trovare l'inserzione, signor Wilson?» «Sì, eccola», disse l'uomo piantando a metà della colonna il suo grosso dito rosso. «Eccola qua! È da qui che comincia tutta la storia. La lega lei stesso, la prego.» Presi il giornale che mi tendeva e lessi quello che segue. «Ai soci della Lega dei capelli rossi, grazie all'ascito del defunto Ezekiah Hopkins di Lebanon, Pennsylvania, USA, è ora vacante un posto riservato a un membro della Lega, con uno stipendio di 4 sterline la settimana, in cambio di un lavoro puramente nominale. Sono elegibili tutti gli uomini rossi di capelli, sani di corpo e di mente, che abbiano compiuto i 21 anni. Rivolgersi personalmente lunedì alle 11 a Duncan Ross, negli uffici della Lega in Pops Court, Fleet Street 7. «Ma che razza di storia è questa?» feci trasecolato dopo aver letto e riletto quella straordinaria inserzione. Holmes ridacchiò e si contorse sulla seggiola, come faceva sempre quando era di buon umore. «È un po' fuori dal seminato, dottore?» disse. «E adesso, signor Wilson, avanti. Ci racconti tutto di sé, di com'è composta la sua famiglia e dei risultati che questo annuncio ha avuto sulla sua vita e sulla sua posizione finanziaria. La prego, dottore, di prendere nota della testata del giornale e della data. È il morning cronico del 27 aprile 1890, di due mesi fa, dunque.» «Benissimo. E ora a noi, signor Wilson.» «Beh, dunque, come le stavo dicendo, signor Holmes», cominciò Jabez Wilson, detergendosi la fronte madida con un fazzoletto. «Ho una piccola agenzia di prestiti su pegno in Coburg Square, nei pressi della City. Non è un'azienda molto prospera e in questi ultimi anni mi ha fruttato appena di che campare. Di solito tenevo due impiegati, ma adesso ne ho uno solo e farei fatica a pagare anche quello se non fosse che è disposto a stare a mezzo stipendio, perché è desideroso di imparare e di far pratica negli affari», dice. «Come si chiama questo volenteroso giovanotto?» domandò Holmes. «Vincent Spaulding. E non è poi tanto giovane. È difficile dire la sua età. Per me è un ottimo impiegato, signor Holmes, e non ne vorrei uno migliore. Capisco perfettamente che potrebbe crearsi una posizione più brillante e guadagnare il doppio di quello che gli do io, ma dopotutto contento lui. Perché dovrei essere proprio io a fargli montare la testa. Eh già, lei deve ritenersi fortunatissimo ad avere un commesso che la serve a mezzo stipendio. È una cosa rara oggigiorno. Non so se stupirmi di più per ciò che lei mi racconta su quel suo impiegato oppure per quella straordinaria inserzione del Morning Chronicle». «Oh, ha i suoi difetti anche lui», riprese il signor Wilson. «Non ho mai visto uno più appassionato di Spaulding in fatto di fotografie. Se la batte con un apparecchio in mano mentre dovrebbe starsene in ufficio a migliorare le sue conoscenze. Ed ecco che subito dopo corre a chiudersi in cantina come un coniglio nella sua tana a sviluppare i suoi capolavori. Questo è il suo difetto principale, ma nel complesso è bravo, gran lavoratore e non ha vizi. È sempre con lei, immagino?» «Sì, signore. C'è lui e c'è una ragazzina di 14 anni che fa un po' di cucina, roba alla buona e tiene puliti i locali. Questo è tutto il mio personale e la mia famiglia, dato che sono vedovo e non ho mai avuto figli. Viviamo molto tranquillamente, cosa vuole? Tutti e tre. E ci accontentiamo di avere un tetto sopra la testa e di che pagare i nostri debiti, se non altro». È stata l'inserzione a cominciare a mettere scompiglio in casa. Spaulding viene in ufficio, giusto giusto otto settimane fa, proprio con questo stesso giornale in mano, e dice «Come vorrei essere un uomo rosso di capelli, signor Wilson?» «Come sarebbe a dire?» faccio io. «Perbacco. Guardi un po' qua», mi fa lui. «Ecco un altro posto vacante per i soci della Lega dei Capelli Rossi. Si tratta di una piccola fortuna che chiunque sarebbe felice di intascarsi, e mi pare di capire che ci sono più posti liberi che non soci, quindi gli amministratori devono lambiccarsi il cervello per trovare il sistema di spendere il loro denaro. Se soltanto i miei capelli potessero cambiare colore. Ecco una piccola mangiatoia pronta dove andrai volentieri a tuffare il muso subito. Beh, si può sapere di che cosa si tratta?» Ho domandato sempre più stupito. «Vede, signor Holmes, io sono un uomo di abitudini casalinghe, e siccome i miei affari vengono loro da me invece di essere io ad andare da loro, succedeva che passavano spesso settimane intere senza che mettessi piede fuori di casa. Per questo non ero mai molto al corrente di quello che accadeva nel mondo, e le notizie di fuori mi interessavano sempre moltissimo. «Non ha mai sentito parlare di quelli della lega dei capelli rossi?» mi ha chiesto sgranando gli occhi sorpreso. «Mai!» «Perbacco, me ne stupisco, perché lei è adatto come nessun altro a un posto del genere!» «Ma che cosa mi possono dare?» ho chiesto. «Beh, non più di 200 sterline l'anno, ma il lavoro è leggero, e non interferirebbe per niente con le sue solite occupazioni. Capirà che tutta questa storia mi ha fatto drizzare le orecchie, perché da parecchi anni i miei affari sono sempre molto magri, e 200 sterline in più non mi avrebbero dato certamente fastidio.» «Mi parli un po' della faccenda», gli ho detto. «Ecco», mi ha risposto Spaulding mostrandomi l'inserzione, «può leggere lei stesso che la Lega ha un posto vacante, e c'è pure l'indirizzo dove può rivolgersi per tutti i chiarimenti del caso. Per quanto mi è dato di capire, la Lega fu fondata da un milionario americano, Ezekiah Hopkins, che doveva essere un bello originale. Era anche rosso di capelli, e nutriva una grande simpatia per tutti quelli dai capelli rossi. Perciò, quando morì, si scoprì che aveva lasciato la sua enorme sostanza nelle mani di esecutori testamentari, con l'incarico di devolvere gli interessi del suo capitale, a provvedere facili impieghi per tutti coloro che avevano i capelli del suo stesso colore. Da quello che ho sentito dire, la paga è ottima, e il lavoro pochissimo. Ma, ho obiettato, ci saranno milioni di persone con i capelli rossi che cercheranno un posto simile. Non poi tanti come si potrebbe credere. Vedo qui in fondo, è un privilegio riservato ai soli londinesi, e adulti per giunta. Hopkins in gioventù era partito da Londra in cerca di fortuna, e ha voluto che del curioso lascito beneficiasse la sua città natale. Inoltre ho saputo che è inutile aspirare al posto se si hanno i capelli rosso chiaro o rosso scuro. Proprio rossi fiammanti devono essere. Ora, signor Wilson, io le consiglierei di fare domanda, ma forse a lei non sembra il caso di scomodarsi per 200 sterline annue. Ora vedranno loro stessi signori che i miei capelli sono proprio del rosso richiesto. Così ho riflettuto che se la concorrenza a un posto simile era basata unicamente sulla tinta della chioma, le mie probabilità di riuscita erano fortissime. Vincent Spaulding aveva l'aria di saperla talmente lunga sull'argomento che ho pensato mi sarebbe stato utile averlo con me per discutere con i signori della Lega. Perciò gli ho detto di abbassare le saracinesche per quel giorno e di venirsene via con me. Siccome aveva molta voglia, anche lui, di un po' di vacanza, ha consentito di buon grado ad accompagnarmi, e insieme ci siamo avviati all'indirizzo indicato nell'annuncio. Sono sicuro che non mi accadrà mai più di assistere a uno spettacolo simile, signor Holmes. Da nord, da sud, da est e da ovest, tutti coloro che avevano anche un'ombra di rosso nei capelli si erano precipitati nella city per rispondere all'inserzione. Fleet Street era in gombra di gente dalla testa color carota e Popscourt pareva il carretto di un venditore di arance. Mai avrei creduto che ce ne fossero tanti nel nostro paese, ed ecco che quella strana inserzione pubblicitaria me li faceva vedere tutti quanti riuniti insieme. Passavano per le sfumature più varie, dalla paglia al limone, dall'arancione all'ocra, dal colore dei settari irlandesi al mattone, al rosso fegato, alla creta. Però, come mi aveva detto Spaulding, pochi erano di un rosso fiammante, deciso come il mio. Quando ho visto in quanti eravamo, stavo per rinunciare, sconfortato, ma Spaulding non ha voluto sentir ragione. Come abbiamo fatto non lo so, ma tanto ha spinto e tirato e lavorato di gomito che alla fine siamo riusciti a superare la folla e ci siamo ritrovati, come per incanto, sui gradini che conducevano all'ufficio. Sulle scale si avvicendava una doppia fiumana di gente, chi saliva pieno di speranza, chi scendeva abbacchiato, ma a furia di spinte è venuto anche il nostro turno, ed eccoci finalmente nell'ufficio. Veramente la sua deve essere stata un'esperienza molto interessante, osservò Holmes, mentre il suo cliente faceva una pausa e si rinfrescava la memoria con un'abbondante presa di tabacco. La prego, continui, siamo impazienti di ascoltare il seguito. Nell'ufficio non c'erano che un paio di seggiole e un tavolo di legno grezzo, dietro cui sedeva un omino con una testa ancora più rossa della mia. Rivolgeva poche parole a ciascuno dei candidati che venivano man mano presentandosi e ogni volta riusciva a trovare loro qualche difetto, sì che erano sistematicamente scartati. A quanto pareva quel posto vacante non era così facile da ottenere. Comunque quando è giunto il mio turno l'omino si è mostrato un pochino più favorevole nei miei confronti di quello che non fosse stato sino a quel momento con gli altri e appena siamo entrati ha chiuso la porta in modo da poterci parlare privatamente. Ecco il signor Jabez Wilson, ha detto il mio assistente. Vorrebbe ottenere l'impiego offerto dalla Lega. E mi sembra anche magnificamente dotato, ha esclamato l'altro. Ha tutti i requisiti necessari, non ricordo proprio di averne mai visto uno più adatto al caso nostro. Ha fatto un passo indietro, ha inclinato la testa da un lato e mi ha guardato i capelli finché mi sono sentito un po' confuso. Poi a un tratto si è buttato in avanti, mi ha afferrato la mano e si è congratulato caldamente con me per il mio successo. Sarebbe una vera ingiustizia esitare, ha detto. Però mi deve scusare se prendo una precauzione, ovvia date le circostanze. E così dicendo mi ha afferrato i capelli con tutte e due le mani e si è messo a tirare, facendomi urlare come un dannato. Vedo che ha gli occhi pieni di lacrime, ha osservato poi lasciandomi andare. Dunque i capelli sono proprio i suoi, autentici, ma dobbiamo stare attenti perché siamo stati imbrogliati due volte con delle parrucche e una volta con una tintura. Potrei raccontarle dei trucchi a base di pece da calzolaio che la disgusterebbero per sempre della natura umana. È avanzato verso la finestra e ha gridato con quanto fiato aveva in gola che il posto era stato aggiudicato. Dal basso è giunto un mormorio prolungato di delusione e la folla si è sparpagliata nelle più diverse direzioni, finché le uniche teste rosse rimaste erano la mia e quella dell'amministratore. «Mi chiamo Duncan Ross», mi ha detto, «e sono io stesso beneficiario dell'ascito elargito dal nostro nobile benefattore. È sposato, signor Wilson, a famiglia?» Gli ho risposto di no. Immediatamente si è fatto scuro in viso. «Oh, povero me!» ha esclamato con aria preoccupata. «Questo è un brutto affare! Mi spiace che lei mi dica questo. Naturalmente l'ascito è inteso non solo per il mantenimento, ma anche per la diffusione e la propagazione nel mondo della gente rossa di capelli. È veramente un guaio che lei sia scapolo.» «Nel sentire questo sono rimasto molto male, signor Holmes, perché ho pensato che il posto mi sarebbe stato tolto. Ma dopo aver riflettuto per alcuni minuti, l'omino ha detto che, pazienza, avrebbe fatto uno strappo al regolamento.» «In un altro caso, mi ha spiegato, sarebbe stato un ostacolo insormontabile. Ma non posso non fare un'eccezione a favore di un uomo che ha dei capelli di un rosso così magnifico. Quando potrà iniziare la sua attività qui da noi?» «Non saprei, perché ho già un'azienda mia.» «Oh, questo non ha importanza, signor Wilson», ha interloquito a questo punto Vincent Spaulding. «Baderò io alla sua azienda.» «Che orario dovrei fare?» ho chiesto. «Dalle dieci alle due.» «Ora, il lavoro di gente come me, che presta subpegno, è soprattutto di sera, e in particolare il giovedì e il venerdì, giusto prima del giorno di paga. Perciò mi andava proprio a genio quell'orario che mi impiegava solo le ore del mattino e del primo pomeriggio. Sapevo inoltre che il mio assistente era un bravo ragazzo e che potevo fidarmi di lui in tutto e per tutto.» «Sì, per me queste sarebbero ore comodissime», ho risposto. «E lo stipendio?» «Quattro sterline la settimana.» «E che lavoro dovrei sbrigare?» «Oh, un lavoro puramente nominale.» Come sarebbe a dire? Ecco, bisogna che lei rimanga in ufficio, o perlomeno nell'edificio, durante tutto il tempo stabilito. Se se ne va, perde il posto per sempre. Su questo punto il testamento è chiarissimo. Se lei abbandona l'ufficio durante le quattro ore stabilite, infrange le condizioni fissate nell'ascito. «Si tratta appena di quattro ore al giorno, dopo tutto, e non ho nessuna intenzione di andarmene», ho osservato. «Nessuna giustificazione valida», ha insistito il signor Ross, «nei motivi di salute, di affari o altro. Bisogna che lei rimanga sul posto, altrimenti perde ogni diritto al beneficio.» «E che genere di lavoro devo sbrigare?» «Deve semplicemente ricopiare l'enciclopedia britannica.» «Eccone lì su quello scaffale il primo volume. Deve provvedere lei all'inchiostro, alle penne e alla carta. Noi possiamo fornirle questo tavolo e una sedia.» «Può venire già da domani?» «Certamente», ho risposto. «Allora arrivederci, signor Wilson, e mi permetta di congratularmi nuovamente con lei per la magnifica fortuna che le è toccata.» Con un inchino si è congedato e io me ne sono tornato a casa col mio assistente, senza sapere che cosa dire o fare, tanto ero soddisfatto e felice della piega inaspettata che aveva preso la mia vita nello spazio di quelle poche ore. Però, dopo aver riflettuto tutto il giorno, la sera mi sono sentito nuovamente molto depresso, perché mi ero convinto che non potesse trattarsi che di una frode o di uno scherzo di cattivo gusto, per quanto non riuscissi a immaginare quale potesse esserne lo scopo. Mi sembrava impossibile credere che qualcuno avesse potuto fare un testamento così assurdo, con cui si destinava una cifra non indifferente per un lavoro poerile e inutile quanto la ricopiatura dell'enciclopedia britannica. Spaulding ha fatto il possibile per allegrarmi, ma al momento di andare a letto ero ben convinto a lasciar perdere la cosa. Comunque, il giorno dopo, ho pensato che valesse la pena di andare a dare un'occhiata. Così ho acquistato una bottiglietta d'inchiostro, una penna e parecchi fascicoli di fogli protocollo, e mi sono avviato verso Popscourt. Ed ecco che, con mia grande sorpresa e soddisfazione, vi ho trovato tutto perfettamente in ordine. Il tavolo era già pronto ad aspettarmi, e il signor Ross era venuto a vedere che avessi tutto l'occorrente per iniziare il mio lavoro. Mi fece cominciare dalla lettera A, quindi mi ha lasciato, ma si affacciava all'uscio di tanto in tanto per assicurarsi che non avessi bisogno di nulla. Alle due mi ha salutato, mi ha fatto i complimenti per il buon numero di voci che ero riuscito a ricopiare, e mi ha chiuso alle spalle la porta dell'ufficio. Questa storia, signor Holmes, è andata avanti giorno dopo giorno, e finalmente il sabato l'amministratore è venuto e mi ha snocciolato sul tavolo, quale compenso del mio lavoro di una settimana quattro belle sterline d'oro sonante. La stessa cosa si è ripetuta la settimana successiva, e la terza. Ogni mattino ero in ufficio alle dieci, e ogni pomeriggio andavo via alle due. Poco a poco il signor Ross aveva preso l'abitudine di venire a dare un'occhiata una volta sola, al mattino, e poi dopo un certo tempo non è più venuto. Però naturalmente non osavo lasciare la stanza nemmeno per un minuto, avevo paura che potesse comparire da un momento all'altro, e certo non avevo l'intenzione di perdere per una sciocca mancanza un posto come quello. Intanto erano trascorse otto settimane, e io avevo copiato le voci abate, architettura, arciere, armatura, attica, e speravo, data l'assiduità con la quale lavoravo, di raggiungere entro breve tempo la lettera B. Mi costava parecchio in carta, e con i miei fogli avevo già quasi riempito un intero scaffale. Ed ecco che a un tratto tutta la baracca è andata improvvisamente a rotoli. A rotoli? Sì, signore, e non più tardi di stamattina. Mi sono recato come al solito al mio lavoro, alle dieci in punto, ma l'uscio era sprangato, e in mezzo, con una puntina da disegno, avevano appiccicato questo cartello. Eccolo, gliel'ho portato, perché potesse leggerlo con i suoi stessi occhi. E così dicendo, ci mostrò un cartoncino bianco, del formato pressappoco di un foglio di carta da lettere, su cui avevano scritto «La lega dei capelli rossi è sciolta. 9 ottobre 1890». Sherlock Holmes e io restammo per un po' a osservare questo breve annuncio e la faccia malinconica che vi si nascondeva dietro, finché il lato comico della cosa ebbe in noi il sopravvento, e senza più alcun ritegno scoppiamo entrambi in una risata fragorosa. «Non capisco perché ci sia poi tanto da ridere», esclamò il nostro cliente, arrossendo fino alle radici della fiammeggiante chioma. «Se non sapete fare niente di meglio che ridere alle mie spalle, posso andarmene benissimo altrove». «No, no», disse Sherlock Holmes sospingendolo di nuovo sulla poltrona dalla quale si era alzato a metà. «Non vorrei perdere il suo caso per niente al mondo, è talmente insolito. Ma anche, mi voglia scusare se glielo dico francamente, talmente buffo. Su, mi dica, che cosa ha fatto quando ha visto questo cartello appiccicato sull'uscio?» «Sono rimasto senza parole, signor Holmes. Non sapevo proprio che pesci pigliare. Mi sono rivolto agli uffici vicini, ma nessuno pareva saperne nulla. Alla fine mi sono recato dal padrone di casa, un contabile che abita a pian terreno, e a lui ho chiesto se potesse fornirmi qualche indicazione su quello che era accaduto alla Lega dei Capelli Rossi. Mi ha risposto di non aver mai sentito neppure nominare una simile associazione. Allora gli ho domandato chi era il signor Duncan Ross. Mi ha risposto che il nome gli giungeva completamente nuovo. «Ma come?», ho detto. «Il signore che sta al numero 4». «Chi? Quello rosso di capelli?» «Precisamente!» «Oh!», mi fa. «Quello si chiama William Morris. Mi aveva chiesto quei locali in affitto temporaneo finché non fossero stati pronti i suoi uffici permanenti, in un'altra località. Ha traslocato proprio ieri». «E dove posso trovarlo?» «Nel suo ufficio. Mi ha lasciato l'indirizzo. Eccolo. King Edward Street, numero 17, vicino alla chiesa di St. Paul. Sono partito come un razzo, signor Holmes. Ma arrivato all'indirizzo fornitomi dal padrone di casa, ho scoperto che si trattava di una fabbrica di protesi artificiali e che nessuno aveva mai sentito parlare né del signor William Morris né di Duncan Ross». «E allora che cosa ha fatto?» domandò Sherlock Holmes. «Sono tornato a casa in Saks Coburg Square e ho chiesto il parere del mio assistente. Lui non ha saputo dirmi nulla. Mi ha consigliato semplicemente di attendere, perché se avesse aspettato mi avrebbero fatto di certo sapere qualcosa per posta». «Ma questo non mi ha convinto, signor Holmes. Non voglio perdere un posto come quello senza lottare almeno un pochino. Perciò, quando ho saputo che lei è così buono da essere sempre pronto ad aiutare i poveri diavoli che le chiedono consiglio e protezione, sono venuto subito da lei». «E ha fatto molto bene», disse Holmes. «Il suo è un caso veramente straordinario e sono felicissimo di potermene occupare. Da quanto mi ha esposto finora, può darsi che ne escano sviluppi assai più gravi di quanto possa sembrare a tutta prima». «Altro che gravi», borbottò Jabez Wilson. «Io ci rimetto quattro sterline la settimana». «Per quanto la riguarda personalmente», obiettò Holmes, «non trovo che lei abbia il diritto di lamentarsi granché di quella straordinaria associazione. Al contrario, se ho capito bene, il suo capitale si è arricchito di circa 30 sterline, senza contare il fatto che il suo patrimonio spirituale ha potuto avvantaggiarsi di tutto il sapere spicciolo elencato sotto la lettera A dell'enciclopedia britannica. Lei non ci ha proprio perduto nulla con quella gente». «No, signore, ma voglio scoprire che fine hanno fatto e che scopo avevano nel giocarmi un tiro di quel genere, se si può parlare di tiro». «Comunque è un tiro che gli ha costato caro perché hanno dovuto sborsare ben 32 sterline». «Cercheremo di chiarire tutti questi punti. E intanto un paio di domande, signor Wilson. Quell'assistente che è stato la prima persona ad attirare la sua attenzione sull'inserzione della Lega, da quanto tempo era con lei?» «Da un mese circa, allora». «Com'è arrivato a lei?» «In risposta a un'inserzione sul giornale». «Era il solo candidato?» «Oh no, se n'è presentata una dozzina». «E come mai ha scelto proprio quello?» «Perché aveva l'aria capace ed era disposto a lavorare a mezzo stipendio». «Già. Che tipo è dunque questo Vincent Spaulding?» «È piccolo, tarchiato, molto svelto di modi e col viso completamente glabro, per quanto debba avere ormai una trentina d'anni. Sulla fronte ha una cicatrice bianca prodotta da un acido». Holmes si tirò su a sedere, in preda a una notevole animazione. «Me l'ero immaginato!» murmurò. «Ha mai notato che avesse i lobi delle orecchie bucati, come per farvi passare degli orecchini?» «Sì, e mi ha spiegato che è stata una zingara a praticargli quei fori alle orecchie quando era un ragazzino». «Hmm», fece Holmes ricadendo in una profonda meditazione. «Eda è sempre con lei?» «Certo, l'ho lasciato proprio adesso». «E come ha badato ai suoi affari durante le sue assenze? Non ho nulla da lamentare a questo proposito. Come le ho già detto, al mattino il lavoro è sempre scarsissimo». «Basta così, signor Wilson. Sarò lieto di poterle dare una mia opinione in proposito entro un paio di giorni. Oggi è sabato e spero che per lunedì potremmo essere già giunti alla conclusione». «Dunque, Watson», mi disse Holmes quando il nostro ospite ci ebbe lasciati, «che ne pensa di tutta questa storia?» «Francamente non ci capisco nulla», gli risposi con tutta sincerità. «Per me è un vero mistero». «Di solito», osservò Holmes, «quanto più una cosa ci sembra strana, tanto meno è misteriosa, in realtà. I delitti comuni, banali, quelli sì che ti lasciano perplesso. Proprio come una faccia qualunque è sempre più difficile da identificare. Ma bisogna agire in fretta, nel caso attuale». «Che intenzioni ha, dunque?» «Di fumare! Si tratta di un problema da almeno tre pipe, e la prego di non rivolgermi la parola per 50 minuti». Si raggomitolò nella poltrona, le lunghe gambe tirate su fino a toccare il naso aquilino, e se ne stette così per un pezzo, a occhi chiusi, con la pipa di terra nera che gli usciva di bocca come il becco di uno strano uccello. Ero giunto alla conclusione che si fosse addormentato, e già cominciavo anch'io ad appisolarmi, quando balzo a un tratto in piedi con l'aria di chi ha preso una decisione improvvisa, e ripose la pipa sulla mensola del camino. «Questo pomeriggio Sarasate suona alla St. James Hall», disse. «Che ne dice Watson? I suoi pazienti possono aspettare ancora per qualche ora?» «Non ho niente da fare oggi, ed altronde la mia clientela non è mai troppo esigente. Allora si metta il cappello e venga con me. Passeremo prima dalla City, e strada facendo potremmo pranzare. Vedo che il programma prevede parecchia musica tedesca, che secondo me è di gran lunga preferibile a quella francese e italiana. È musica introspettiva, e io ho un fortissimo bisogno di introspezione. Su, andiamo!» Con la metropolitana ci recammo fino ad Aldersgate, e una breve passeggiata ci condusse in Saxe-Coburg Square, cioè dove risiedeva l'agenzia del cliente che avevamo ascoltato quella mattina. Era una località povera, meschina, eppure commovente a vedersi, dove quattro file di annerite case di mattoni davano su un piccolo recinto in cui una iuola di erba maltenuta e qualche ciuffo di alloro sbiadito lottavano coraggiosamente, ma senza speranza, contro un'atmosfera avversa e satura di fumo. Tre palle dorate e un cartello scuro con la scritta in lettere bianche J. Betts Wilson, a una casa d'angolo, annunciavano il posto dove il nostro cliente dalla chioma color carota esercitava la sua onesta professione. Sherlock Holmes vi si fermò davanti piegando la testa da un lato, e la squadrò da cima a fondo, con gli occhi che gli luccicavano sotto le sopracciglia aggrottate. Quindi risalì lentamente la strada, poi la ridiscese fino all'angolo, sempre studiando attentamente tutte le case, una dopo l'altra. Infine ritornò davanti a quella dello strozzino, e dopo aver picchiato vigorosamente col suo bastone sul marciapiede, almeno due o tre volte, si diresse alla porta e bussò. Immediatamente gli fu aperto da un giovanotto dall'aspetto intelligente, accuratamente sbarbato, che gli offrì di entrare. «La ringrazio», disse Holmes, «ma volevo semplicemente chiederle come si fa per andare da qui allo Strand». «Terza a destra, quarta a sinistra», rispose pronto l'assistente, richiudendo la porta. «Quello sì che è un tipo in gamba», fece Holmes mentre ci allontanavamo. «A mio giudizio è uno dei quattro uomini più intelligenti di Londra, e in quanto ad audacia non so se non abbia diritto al terzo posto. Ne ho già sentito parlare di quel giovanotto». «Certo», dissi io, «l'assistente di Wilson deve rappresentare una parte di primo piano nel mistero della Lega dei Capelli Rossi. Penso che lei si sia servito della scusa di farsi indicare la strada per poterlo vedere in faccia». «Veramente non volevo vedere lui». «E chi allora?» «Le ginocchia dei suoi pantaloni». «Come come? E cosa ci ha trovato?» «Quello che avevo previsto di trovarci». «E perché ha picchiato sul marciapiede?» «Mio caro dottore, questo è il momento di osservare, non di chiacchierare. Il nostro ruolo attuale è quello di spie in paese nemico, e adesso che sappiamo qualcosa di Saks-Koburg Square, vediamo di esplorare i sentieri che si stendono alle sue spalle». «La strada in cui ci venimmo a trovare dopo aver girato l'angolo di quella piazzetta appartata rappresentava con l'altra parte lo stesso contrasto che può dare un quadro rispetto al suo rovescio. Si trattava di una delle arterie principali che distribuiscono il traffico della city a nord e a ovest. La carreggiata era in gombra di un'immensa fiumana di veicoli che correvano in doppia fila nelle due direzioni, mentre i marciapiedi erano letteralmente formicolanti di pedoni frettolosi. Era difficile pensare. Vedendo l'allinearsi dei negozi eleganti e degli imponenti palazzi, quasi tutti adibiti a uffici, che dall'altra parte si sbocasse nella piccola piazza squallida, ristagnante come una pozzanghera, dalla quale eravamo appena usciti. «Vediamo un po', disse Holmes fermandosi all'angolo e dando un'occhiata al panorama circostante. Vorrei ricordarmi l'ubicazione precisa delle case qui attorno. È una mia piccola mania conoscere esattamente Londra. Ecco, lì c'è Mortimer, il tabaccaio, poi il piccolo negozio di giornali, la succursale della City and Suburban Bank, il Vegetarian Restaurant e il deposito carrozze di McFarlane. Questo ci conduce dritti all'altro isolato. E adesso che il nostro lavoro è terminato, dottore, abbiamo diritto a un po' di svago. Ci prenderemo un panino e una tazza di caffè e poi ce ne andremo nel paese dei violini, dove tutto è dolcezza, delicatezza e armonia. E dove nessun cliente pel di carota può seccarci coi suoi ermetici problemi. Il mio amico era un musicista appassionato, essendo lui stesso non solo un esecutore di grande talento, ma anche un compositore di meriti non comuni. Se ne stette tutto il pomeriggio seduto nella sala del conservatorio, rapito in uno stato di totale felicità, muovendo lievemente le lunghe dita sottili a tempo con la musica, mentre la sua faccia, dolcemente sorridente, e gli occhi sognanti erano del tutto diversi da quelli di Holmes il Segugio, di Holmes l'implacabile, l'astuto, l'onnisciente investigatore. Nel suo singolare carattere si alternavano così quelle due nature, e la sua precisione estrema, la sua sagacia, costituivano, l'avevo pensato spesso, la reazione all'inclinazione poetica e contemplativa, che a volte predominava in lui. La gamma del suo temperamento versatile lo portava da un eccesso di indolenza a un'energia straripante, e io sapevo perfettamente che Holmes non era mai tanto imbattibile come quando aveva trascorso intere giornate a oziare nella sua poltrona, tra le sue improvvisazioni musicali e le sue edizioni in caratteri gotici. Era allora che la frenesia della caccia si risvegliava subitamente in lui, e che il suo brillante potere di ragionatore si elevava a livello dell'intuizione con tanta forza, con tanta violenza, che chi non era al corrente dei suoi metodi finiva per considerarlo quasi con un senso di timore, come un uomo il cui sapere non era simile a quello dei comuni mortali. Quando lo vidi così rapito dalla musica, quel pomeriggio alla St. James Hall, ebbi la sensazione che tempi durissimi stessero maturando per coloro che aveva deciso di sconfiggere. «Lei di certo vorrà tornare a casa, dottore», mi disse all'uscita dal concerto. «Sì, penso che sarebbe bene. Io invece devo sbrigare una cosa per cui mi ci vorranno parecchie ore. Questa faccenda di Cobbjurg Square è molto seria». «Perché è seria? Perché credo che si stia preparando un colpo di notevoli proporzioni, ma ho buoni motivi di ritenere che arriveremo in tempo per impedirlo. Dato però che oggi è sabato, questo semplifica le cose. Avrò bisogno del suo aiuto stasera». «A che ora?» «Alle dieci circa. Sarò da lei alle dieci precise». «Benissimo. E senta, dottore, ci potrebbe essere pericolo. Le raccomando pertanto di mettersi in tasca la sua vecchia pistola d'ordinanza. Mi salutò con un cenno della mano, si girò e in un attimo scomparve tra la folla. Sono sicuro di non essere così melenso se mi paragono a tanta gente che conosco, ma confesso che di fronte a Sherlock Holmes mi sento sempre molto stupido. In questo caso avevo udito quello che aveva udito lui, visto quello che aveva visto lui. E tuttavia dalle sue parole mi appariva chiaro che aveva intuito esattamente non ciò che era accaduto, ma ciò che doveva accadere. Mentre per me tutta quella storia presentava unicamente un aspetto grottesco e confuso. Ritornando in carrozza alla mia casa di Kensington, ripensavo a tutto questo. Dallo straordinario racconto del rosso ricopiatore dell'enciclopedia, fino alla nostra visita a Saks-Coburg-Square, e alle parole cariche di oscura minaccia con le quali Holmes si era accomiatato da me. Qual era il significato di questa nostra imminente spedizione notturna? E perché dovevo recarmi da lui armato? Dove dovevamo andare? Che cosa avremmo dovuto fare? Avevo intuito dalle parole di Holmes che l'assistente dello strozzino, quel giovanotto dal viso glabro, doveva essere un individuo terribile, un uomo capace di giocare il tutto per tutto. Cercai di indovinare, di arzigogolare, ma alla fine rinunciai sconfortato, mettendo da parte quell'argomento e attendendo che la sera mi portasse una spiegazione. Lasciai casa mia alle nove e un quarto e mi diressi a piedi, attraverso il parco e Oxford Street, fino a Baker Street. Vidi due vetture di piazza ferme davanti alla porta dell'abitazione, ed entrando nel corridoio, udì su in cima un brusio di voci. Nella stanza trovai Holmes in animata conversazione con due uomini, in uno dei quali riconobbi immediatamente Peter Jones, un funzionario di polizia, mentre l'altro era un individuo lungo, magro, con la faccia malinconica, vestito di una giacca a coda di rondine, di una rispettabilità opprimente e con in testa un cappello lucidissimo. «Oh, ecco che adesso la compagnia è al completo», disse Holmes abbottonandosi la giacchetta corta e togliendo dall'attaccapanni il pesante frustino da caccia. «Watson, credo che lei conosca il signor Jones di Scotland Yard, vero? Mi permetta di presentarla al signor Meriwether, che stanotte ci accompagnerà nella nostra spedizione». «Come vede, dottore, ritorniamo a cacciare in coppia», disse Jones parlando come al solito con fare saccente. «Il nostro amico Holmes è straordinario per iniziare una battuta, ma poi ha sempre bisogno di un vecchio cane che liazzanni la selvaggina». «Speriamo che la nostra non sia una caccia ai fantasmi», bofonchiò con aria tetra il signor Meriwether. «Lei può avere la massima fiducia in Holmes, signor Meriwether», disse Jones con sussiego. «Segue, è vero, metodi tutti suoi, che sono un po' troppo teorici e campati in aria, questo almeno è il mio parere, ma ha tutta la stoffa di un buon agente investigativo. Non esagero se le dico che un paio di volte, come nel caso del delitto sciolto e della faccenda del tesoro di Agra, per esempio, le sue ricerche si sono dimostrate più esatte delle nostre». «Oh, se lo dice lei, signor Jones, sarà così certamente», riconobbe con deferenza all'allampato personaggio. «Confesso però che la mia partita di bridge mi manca terribilmente. È il primo sabato sera, in 27 anni, che non faccio la mia solita partidina». «Vedrà», promise Sherlock Holmes, «che lei stasera si troverà a giocare per una posta ben più alta di quanto non abbia giocato finora, e che la partita sarà molto emozionante. Per lei, signor Meriwether, si tratta di circa 30.000 sterline, poco più, poco meno. È per lei, Jones, dell'uomo su cui da tanto tempo desidera mettere le mani». «John Clay, assassino, ladro, scassinatore e falsario. È un giovane, signor Meriwether, ma nella sua professione è in testa a tutti, ed è il criminale londinese al quale desidero più che a ogni altro mettere le manette. Non è certo un tipo qualunque, questo John Clay. Suo nonno era un duca di discendenza reale, e lui stesso è stato educato a Eton e Oxford. Ha un cervello abile come le sue dita, e per quanto ci imbattiamo ogni momento nelle sue tracce, non riusciamo mai a mettergli le mani addosso. Una settimana in Scozia, a svaliggiare una villa, e la settimana dopo, eccolo in cornovaglia a fare una colletta per la costruzione di un orfanotrofio. Sono anni che gli sto dietro, ma non sono mai riuscito neanche a vederlo in faccia. Spero di avere il piacere di farglielo conoscere questa notte. Anch'io ho avuto a che fare un paio di volte con John Clay, e sono d'accordo con lei che nel suo mestiere è un tipo molto in gamba. Ma sono le dieci passate, e dovremmo essere già in movimento. Se loro due vogliono prendere la prima carrozza, Watson e io possiamo seguire nella seconda. Sherlock Holmes non fu molto charliero durante il lungo viaggio. Rimase seduto nel fondo della vettura, canticchiando i temi delle musiche che avevamo ascoltato durante il pomeriggio. Attraversammo di gran carriera un labirinto che non finiva più, di strade illuminate con lampioni a gas, finché ci trovammo in Farrington Street. Ormai ci siamo quasi, osservò il mio amico. Quel Meriwether è un direttore di banca, ed è personalmente interessato alla faccenda. Ho pensato che fosse meglio far venire con noi anche Jones. Non è un cattivo diavolo, per quanto nella sua professione sia un perfetto zero. Ma ha due qualità positive. È coraggioso come un mastino e tenace come una ragosta, una volta che è riuscito ad attanagliare la sua preda. Ma eccoci arrivati. Sono già lì che ci aspettano. Ci trovavamo di nuovo nella stessa strada affollata in cui eravamo stati la mattina. Licenziamo le nostre vetture e, seguendo la guida di Meriwether, attraversammo uno stretto corridoio ed entrammo in una porta laterale che ci aprì lui stesso. Eravamo ora in un altro piccolo andito che terminava con una massiccia porta di ferro. Aperta anche questa, scendemmo giù per una lunga rampa a chiocciola di scalini di pietra, per venirci a trovare di fronte a un'altra porta, ancora più massiccia della precedente. Il signor Meriwether si fermò ad accendere una lanterna e ci fece quindi strada per un buio passaggio che odorava di terra, finché, dopo aver varcato una terza porta, entrammo in un vasto sotterraneo, tutto ingombro di massicce cassette. Non si può dire che sia molto vulnerabile dall'alto, osservò Holmes sollevando la lanterna e guardandosi attorno. «E neppure dal basso!» aggiunse Meriwether, percuotendo con la punta del bastone le lastre di granito che ricoprivano il pavimento. «Per Diana! Suona come se fosse vuoto!» esclamò sorpreso con un tono quasi sgomento nella voce. «Bisogna proprio che le chieda di essere un po' più tranquillo!» disse Holmes severamente. «Già lei ha messo a repentaglio tutto il successo della nostra spedizione. La prego abbia la bontà di mettersi a sedere su una di quelle casse e non intervenga per nessun motivo!» Il signor Meriwether si sò solennemente su una cassa, con un'espressione molto offesa, mentre Holmes si metteva in ginocchio sul pavimento e con l'aiuto della lanterna e di una lente d'ingrandimento prendeva a esaminare minutamente gli interstizi fra un lastrone e l'altro. Gli bastarono pochi secondi. Balzò quasi subito in piedi e si rimise la lente in tasca. «Abbiamo almeno un'ora davanti a noi!» osservò. «Perché non credo che si metteranno al lavoro fino a quando quel buon diavolo di uno strozzino non sarà andato a dormire. Ma poi non perderanno un minuto, poiché più presto si saranno sbrigati, più tempo avranno per squagliarsela. Attualmente, caro dottore, noi ci troviamo come del resto avrà già immaginato nel sotterraneo della filiale di una delle principali banche londinesi. Il signor Meriwether ne è il direttore e le spiegherà per quale motivo i più audaci criminali e operanti attualmente in Inghilterra siano tanto interessati nel presente momento a questo particolare sotterraneo. «Si tratta del nostro oro francese», sussurrò il direttore. «Eravamo stati ripetutamente avvertiti che si stava tramando un assalto ai nostri danni». «Del vostro oro francese?» «Sì, abbiamo avuto necessità alcuni mesi fa di rafforzare le nostre riserve e, a questo scopo, abbiamo chiesto in prestito alla Banca di Francia 30.000 napoleoni». Purtroppo è trapelata, chissà come, la notizia che in definitiva non abbiamo mai neppure tolto l'oro dagli imballaggi e che quindi si trova tuttora nel nostro sotterraneo. «La cesta su cui sono seduto contiene 2.000 napoleoni imballati in fogli di piombo laminato. La nostra riserva aurea è molto più consistente oggi di quella che si trova di solito presso una singola filiale, e perciò appunto noi direttori abbiamo avuto parecchi grattacapi in questi ultimi tempi. Come si vede le vostre preoccupazioni erano ampiamente giustificate», osservò Holmes. «Ma sarebbe adesso tempo che facessimo un piccolo piano di battaglia. Penso che tra un'ora tutto dovrebbe essere finito. Frattanto, signor Merriweather, sarà opportuno schermare quella lanterna. E dobbiamo restarcene seduti al buio? Temo proprio di sì. Avevo portato con me un mazzo di carte, e dal momento che eravamo in quattro avevo pensato che, dopo tutto, lei avrebbe potuto fare la sua partitina. Ma mi accorgo che il nemico ha spinto troppo avanti i suoi preparativi perché noi si possa rischiare di accendere una luce. Prima di tutto però dobbiamo scegliere le nostre posizioni. Si tratta di uomini pronti a tutto. E anche se è vero che li coglieremo di sorpresa, potrebbero a loro volta assalirci se non stiamo attenti. Io mi metterò dietro questa cesta. Lei si nasconda dietro quella. Poi, quando io gli getterò in faccia il raggio della lanterna, prenda rapidamente la mira. Se sparano, Watson, non esiti ad abbatterli come cani. Posai la mia pistola, in posizione di sparo, in cima alla cassetta di legno dietro la quale mi ero accucciato. Holmes abbassò il telaio sulla lanterna, immergendoci così nella più profonda oscurità. Un'oscurità tanto completa e assoluta che non permetteva la minima visibilità. Però l'odore del metallo caldo che si andava lentamente diffondendo ci rassicurava che la luce era sempre accesa, pronta a illuminare la scena al momento opportuno. Per me, che avevo i nervi tesi al massimo, c'era qualcosa di deprimente, di soffocante, in quella tenebra improvvisa e nell'aria umida del sotterraneo. Non hanno che un'unica via di ritirata, bisbigliò Holmes. Ritornare cioè in Saks Coburg Square, passando di nuovo dalla casa. Spero che lei abbia fatto quello che ho chiesto, vero, Jones? Ho messo un ispettore e due agenti all'uscita centrale. Abbiamo dunque tappato tutti i buchi. Ora non ci resta che aspettare con calma. Mi parve un'eternità. Più tardi, confrontando gli orologi, seppi che si era trattato soltanto di un'ora e un quarto, ma a me sembrava che la notte fosse quasi trascorsa e che già albeggiasse. Mi sentivo le membra stanche e irrigidite, poiché temevo di cambiare posizione. Ma avevo i nervi che vibravano come corde di violino. E l'udito mi si era fatto così acuto che non soltanto sentivo benissimo il respiro calmo dei miei compagni. Ma ero riuscito persino a distinguere l'ansito più profondo e più pesante del grosso Jones dal lieve respiro del direttore di banca. Dal punto in cui mi trovavo, potevo guardare al di sopra della cassetta, in direzione del pavimento. A un tratto i miei occhi colsero un barlume. Sulle prime non fu che una macchia incerta sul pavimento di pietra. Poi si allungò sino a diventare una striscia gialla. E infine, senza preavviso, senza rumore, una voragine sembrò aprirsi nell'impiantito e una mano apparve. Una mano bianca, quasi femminea, che prese a tastare al centro della piccola zona luminosa. Per un minuto o due quella mano dalle dita brancicanti si sporse fuori dal pavimento. Poi si ritrasse rapidamente, così com'era apparsa, e tutto ricadde nel buio. Tranne che per un vago, incerto chiarore, che metteva in rilievo un'intaccatura fra le pietre. Fu solo una scomparsa momentanea. Con un suono secco, lacerante, una grossa lastra di pietra bianca si girò su un lato lasciando un'apertura quadrata, dalla quale fluiva la luce di una lanterna. Dalla buca spuntò una testa giovanile dal profilo netto. Lo sconosciuto si guardò attorno attentamente. Poi, con una mano su ciascun lato della fenditura, si tirò su sino alla cintola, posando infine un ginocchio sul bordo. Un attimo dopo ne era uscito, e subito si diede da fare a hissare accanto a sé un compagno, snello e piccolo quanto lui, pallido in viso e con una massa di capelli di un rosso acceso. Non c'è pericolo, bisbigliò. Porta sullo scalpello e i sacchi. «Al diavolo! Scappa, Archie! Scappa! Che qui mi arrangio io!» Sherlock Holmes era balzato in avanti e aveva afferrato il ladro per il collo. L'altro scomparve nella buca con un rumore di stoffa lacerata. Jones aveva tentato in vano di fermarlo acchiappandolo per la camicia. Una fiammata sprizzò dalla canna di una pistola, ma il frustino da caccia di Holmes si abbatté sul polso dell'uomo e l'arma cadde a terra con un suono metallico. «E' inutile, John Clay!» disse calmo Holmes. «Non ha la minima speranza di cavarsela.» «Lo vedo!» rispose l'altro con la massima tranquillità. «Però il mio compagno è riuscito a squagliarsela anche se vi ha lasciato in mano un pezzo di giacca.» «Ci sono tre uomini ad aspettarlo», ribatte Holmes. «Ah, è così! Avete fatto le cose proprio per bene! Le mie congratulazioni!» «E lei?» ribatte Holmes. «Quella sua idea della lega dei capelli rossi è stata francamente straordinaria. Lui è più svelto di me a infilarsi giù per i buchi. Intanto, quale zampe mentre ti passo questi braccialetti?» «La prego, non mi tocchi con quelle sue sudici mani!» esclamò il nostro prigioniero, mentre le manette gli chiudevano i polsi. «Forse lei ignora che nelle mie vene scorre sangue reale. Quando mi rivolge la parola abbia la compiacenza di chiamarmi signor Clay e se mi chiede qualcosa me lo chieda per favore.» «Va bene, va bene», replicò Jones, strabuzzando gli occhi per la sorpresa e ridacchiando con aria confusa. «La prego, signore! Vuole avere la bontà di salire di sopra dove potremo noleggiare e una vettura con cui portare vostra altezza in guardina?» «Casi va meglio», disse John Clay con voce serena. Si inchinò cerimoniosamente a noi tre e si allontanò senza opporre resistenza in compagnia della gente. «Davvero, signor Holmes, non so come la banca potrà ricompensarla e ringraziarla per l'immenso servizio che ci ha reso», disse il signor Meriwether mentre ci avviavamo a nostra volta verso l'uscita. «Non vi è dubbio che lei sia riuscito a scoprire e a sventare uno dei più audaci tentativi di scasso che, a quanto ne so, siano stati mai architettati.» «Avevo anch'io i miei conticini da sistemare con John Clay», disse Holmes. «Ho avuto qualche piccola spesa da sostenere per la liquidazione di questa faccenda e spero che la banca mi rifonderà.» Ma a parte ciò, sono stato ampiamente ripagato dalla felice soluzione di un caso sotto molti aspetti più unico che raro, e soprattutto dall'aver potuto ascoltare lo straordinario racconto della Lega dei Capelli Rossi. «Vede, Watson», mi spiegò qualche ora dopo, di prima mattina, mentre eravamo seduti in Baker Street davanti a una sostanziosa colazione, «era perfettamente ovvio sin dall'inizio che il solo scopo possibile di quella dannata, fantasiosa storia della Lega dei Capelli Rossi, con relativa inserzione sul giornale e ricopiatura dell'enciclopedia britannica, era di sbarazzarsi per un certo numero di ore giornaliere del nostro buon banchiere privato, il quale tra parentesi non è certo un'aquila. Si trattava di un espediente bizzarro, ma francamente penso che fosse difficile immaginarne uno migliore. Probabilmente il cervello fantasioso di Clay si era ispirato al colore dei capelli del suo complice. Quelle quattro sterline la settimana erano un'esca che doveva certamente tentare il bravo Wilson, mentre per quei due che miravano a impadronirsi di trentamila sterline erano una miseria. Pubblicano l'inserzione, un farabutto tiene temporaneamente l'ufficio, l'altro farabutto esorta il principale ad accettare l'incarico e così riescono ad assicurarsi la sua assenza per quattro ore ogni mattina. Non appena ho saputo che l'assistente si era offerto di lavorare a mezzo stipendio, mi è apparso chiaro che aveva un forte motivo per agire in quel modo. Ma come ha fatto a intuire il motivo esatto? Se nella casa ci fossero state donne, avrei pensato a un banale intrigo sentimentale. Ma non era questo il caso. D'altro canto, gli affari di Wilson sono di poca entità e nulla nel suo appartamento giustificava i piani e i preparativi architettati con tanta cura e con tanta spesa di denaro. Doveva esservi qualcosa fuori dalla casa. Ma che cosa? Ho riflettuto sulla passione dell'assistente per l'arte fotografica e sulla sua abitudine di scomparire in cantina. La cantina! Ecco il bandolo della complicata matassa. Ho fatto allora delle indagini sul misterioso assistente e sono venuto a sapere che avevo a che fare con uno dei più risoluti e audaci criminali inglesi. Certo doveva tramare qualcosa in quella cantina, qualcosa che da mesi lo teneva occupato per parecchie ore al giorno. Mi sono chiesto ancora che cosa potesse essere. Ho pensato che potesse trattarsi solo dello scavo di una galleria verso un altro edificio. Ero giunto a questa conclusione quando ci siamo recati sul teatro delle operazioni. Ricordo che lei è rimasto sorpreso quando mi ha visto picchiare il bastone sul marciapiede. Volevo accertare se la cantina si prolungava sul davanti o sul retro della casa. La cantina non si prolungava sul davanti. Allora ho suonato il campanello e, come avevo sperato, è venuto ad aprirmi l'assistente in persona. Tra noi c'erano già state delle schermaglie, ma non lo avevo mai visto in faccia prima di quel momento. Quello che però mi interessava soprattutto erano le ginocchia dei suoi pantaloni. Lei stesso avrà notato come erano sciupate, macchiate e gualcite. Rivelavano ore e ore di scavi. Mi restava solo da scoprire per quale scopo scavassero con tanto accanimento. Ho svoltato l'angolo e ho visto che la City and Suburban Bank confinava proprio con l'appartamento del nostro amico. Ho avuto allora la sensazione di aver risolto il problema. Quando lei è tornato a casa sua, alla fine del concerto, ho chiamato Scotland Yard e il decano dei direttori della banca, con il risultato che lei stesso ha visto. Ma come ha potuto indovinare che il tentativo di scasso doveva essere portato a termine questa notte? Ecco, il fatto che i due furfanti avessero chiuso gli uffici della Lega mi è perso un segno evidente che la presenza di Jabez Wilson non dava più fastidio, che cioè la loro galleria doveva essere terminata. Ma era importantissimo per loro servirsene senza indugio, perché da un lato rischiavano di essere scoperti, dall'altro la riserva aurea della banca poteva da un momento all'altro essere trasportata altrove. Ora, il sabato sarebbe stato il giorno più adatto, dato che questo avrebbe concesso loro 48 ore di tempo per mettersi in salvo. Ecco perché ho previsto che avrebbero tentato il colpo stanotte. Il suo ragionamento fila in modo stupendo, esclamai sinceramente ammirato. È una catena lunga, eppure ogni anello si salda all'altro in maniera perfetta. Questo diversivo mi ha salvato dalla noia, conclusi Holmes con uno sbadiglio. Ahimè, già sento che mi sta riprendendo. La mia vita si consuma in un unico vano sforzo per sfuggire ai luoghi comuni dell'esistenza, e questi piccoli faterelli mi aiutano a tenermi desto. Lei è un benefattore dell'umanità, dissi. Holmes alzò le spalle. Chi lo sa, forse a qualcosa servirò anch'io, osservò. Come Flubert ebbe a scrivere a George Sand, l'homme c'est rien, l'oeuvre c'est tout.